sono d'accordissimo sul fatto che siamo dipendenti ma in questo caso a me ha spaventato perché abbiamo scoperto di essere dipendenti non dalla tecnologia ma da un'azienda si è vero e questa roba qui il mondo è dipendente da un'azienda privata americana e questo è spaventoso è spaventoso ma non perché io sia anti americano se fosse cinese o italiana sarebbe la stessa cosa un'azienda privata governa le nostre vite esperto di social media speaker e divulgatore da quasi vent'anni diamo il benvenuto oggi al Chakara Podcast a Rudy Bandiera benvenuto Rudy grazie ragazzi grazie mille tra l'altro il nome del podcast è geniale veramente bellissimo Chakara è bellissimo tra l'altro ti racconto scusa dopo partiamo subito ti racconto come è nato come è nato il nome del podcast così tra l'altro chi ci ascolta lo scopre ci dovevamo chiamare in un altro modo completamente diverso avevamo già tutto pronto grafiche tutta l'organizzazione diciamo della comunicazione era basata su un altro nome una settimana prima di uscire ci chiama uno ci fa raga ma c'è una band di Ferrara che ha lo stesso identico nome come voi avreste voluto casino totale cioè panico assoluto alla fine ci viene fuori questo nome diventiamo Chakara Podcast è bellissimo comunque questo non è il podcast che parliamo del nome Chakara Podcast noi stessi esatto raccontaci un po' di te cioè nel senso come sei partito da dove hai iniziato anche perché tu sei di Ferrara sei ferraresissimo esatto ferraresissimo mio papà lo era mio nonno lo era mia mamma uguale abito in Terra Nuova vicino allo tsunami per chi per chi non lo sapesse dove è Terra Nuova non lo dico perché lo tsunami è un punto di riferimento per specie per gli universitari della Movida della Movida e allora in realtà la faccio breve perché come giustamente detto tu la storia è lunga perché io ho 51 anni quindi per forza di cose sono partito da lontano la cosa affascinante è che quando io ho cominciato a lavorare non mi sono laureato io non sono andato a scuola sono andato a scuola per pochissimo tempo perché ero mi piacerebbe dire i miei non avevano la possibilità di mandarmi a scuola in realtà ero un coglione di conseguenza è la verità è la verità di conseguenza ho smesso di andare a scuola per la mia indipendenza ok e sono andato in fabbrica perché non c'erano tante alternative sono andato in una fonderia d'alluminio ho cominciato a fondere alluminio e mi sono reso conto che qualcosa non andava che non poteva essere la mia vita per il resto cioè la mia realtà per il resto della vita quindi ho cominciato a e sono sempre stato un vorace lettore tutt'ora sono uno da uno o due libri a settimana e quindi leggevo marketing comunicazione non c'era ancora internet a quei tempi non c'erano ancora i social si parla dell'inizio degli anni 90 però non avevo la possibilità di sviluppare questo mio know-how ok fino a un certo punto in cui ho cominciato a fare diversi lavori cioè il know-how ho accumulato ho cominciato oltre a lavorare in fabbrica andare a vendere stampanti per una nota azienda che si chiama Xerox che credo conosciamo più o meno tutti quindi facevo il commerciale l'operaio in fabbrica e in più aggiustavo i computer in un'azienda che si chiamava Frail quindi facevo tre lavori perché uno dice non hai studiato sei arrivato dove sei arrivato quindi si può fare con facilità no se non studi è la difficoltà ti devi fare il masso tremendamente e poi nel 2008 più o meno 2007-2008 2007 ho aperto il mio blog che ha avuto un successo straordinario perché non ce n'erano facile vincere qua non ce n'è e da lì è stata tutta una un'evoluzione da un certo punto di vista dopo sono nati i social sono stato assunto da un'azienda per fare il community manager poi mi sono messo per conto mio e oggi ho combinato quello che ho combinato quindi è un percorso strano rispetto agli standard è molto interessante però la tua storia perché sei veramente uno dei primi divulgatori nel senso che viviamo in un momento dei social in cui è facilissimo fare divulgazione poi dopo sulla qualità si può discutere però nel senso è molto facile far divulgazione su praticamente qualsiasi argomento lo si vede su instagram lo si vede su tiktok su linkedin social su cui tu sei molto forte su cui poi parleremo perché io ci ci vivo un po' su linkedin e ho delle opinioni un po' particolari al riguardo e però ti dicevo tu hai iniziato nel momento in cui sostanzialmente internet non dico nasceva però arrivava veramente al grande pubblico perché 2008 dicevi 2007-2008 i primi anni in cui veramente i social iniziano a essere super utilizzati e in cui tutti iniziano banalmente ad avere lo smartphone esatto infatti ti voglio chiedere anche quando è che hai iniziato a capire che cambiano tutti questi lavori anche diversi fra loro che i social sarebbero stati quella cosa che ti avrebbe fatto esplodere diciamo e che oggi sono nella vita di tutti noi preponderanti diciamo è stata un'evoluzione naturale Baricco in The Game dice che i social non sono un qualcosa di strano sono la nostra evoluzione naturale esistono perché noi in realtà siamo così io in realtà ero così è solo che non avevo la possibilità di dimostrarlo sono capace di comunicare sono capace di passare dei messaggi ma se non sei in un contesto in cui lo puoi fare non puoi passare dei messaggi quindi i social quando sono arrivati ho capito subito che erano il mio la mia vita la mia realtà è stata illuminante però fino a quel momento lì c'è stato un tappo sopra certo quindi tu hai diciamo studiato a tuo modo e imparato il mestiere e in quei 15 anni lì cioè tra i primi anni 90 e metà 2000 quando tu poi esplodi e inizi a lavorare diciamo in quello che è attualmente in quella che è attualmente la tua realtà cosa succede cioè come come ti evolvi mi evolvo facendo un sacco di cose quindi questi tre lavori di cui vi parlavo per capirci facevo i turni in fabbrica quindi lavoravo sabato domenica notte e di giorno facevo gli altri lavori perché avevo capito che non io sono sempre stato guidato non tanto da quello che vorrei fare ma quello che non voglio assolutamente fare ok dall'evitare le cose che mi fanno schifo che sento che non mi appartengono mi fanno sentire a disagio di conseguenza quando trovavo qualcosa che non mi faceva sentire così la seguivo seguivo dei rivoli in sostanza quindi in questi anni qua ho studiato tantissimo perché ho veramente studiato tantissimo a modo mio come giustamente dicevi tu e ho cercato degli spin off dei modi per poter sviluppare tutto quello che io sapevo e che sono stati questi qua poi la mia rete di relazioni costruite in quegli anni eccetera mi ha anche aiutato a uscire da quella da quella condizione ok ti faccio una domanda diretta però anche forse un po' difficile quanto è importante il fallimento per arrivare a qualcosa di successo sul fallimento io impazzisco perché adesso viene glorificato sì ok ed è una roba che a me manda i matti allora voglio dirlo a chi sta ascoltando in questo momento fallire è una merda fallire fa schifo fa schifo è brutto non è da glorificare è brutto ma inevitabile totalmente inevitabile quindi il glorificare il fallimento secondo me è una stupidaggine quello che bisogna fare è capire che è del tutto inevitabile quindi non è un un se è un quando è parte del processo diciamo esatto di conseguenza bisogna imparare ad accettarlo ed imparare in qualche modo a gestirlo io non so quante volte cose grosse ne ho fallite poche ma cose piccole ne ho fallite tante e ogni micro fallimento in qualche modo mi ha portato nella direzione in cui sono ora e sono certo che continuerò a fare errori cioè il fallimento quando è piccolo credo si possa definire errore il fallimento tornando alla tua domanda è comunque parte del processo bisogna adeguarsi e prepararsi al fatto che accadrà perché dici glorificato? perché oggi sembra che se non fallisci se su linkedin di cui tu parlavi prima oggi vedo dei post di gente che mette il curriculum ma al contrario cioè progetti in cui io non sono riuscito a combinare nulla ma ragazzi ma cosa siamo? siamo diventati matti? cioè se tu metti un curriculum in cui non sei riuscito a combinare nulla io penserò di te che sei uno che non riesce a combinare nulla cioè non funziona così oggi sembra che ci sia o bianco o nero no? c'è la dicotomia o sei vincente o sei perdente non è vero cioè la vita di ognuno di noi che è composta da un insieme di variabili tra cui il fallimento glorificarlo non va bene bisogna capire che esiste ok e anche reagire ma c'è capire com'è reagire certo assolutamente reagire perché se poi ci si chiude e si dice allora non sono capace oppure non ce la faccio non va bene ma anche dall'altra parte continuare a battere sul ferro e continuare a fallire non va bene vuol dire che tu stai sbagliando certo e quindi non è che se fallisci sei figo se fallisci hai sbagliato hai fatto una cazzata rimodella il tuo business la tua vita tutto quello che hai e ricomincia certo e in questi tuoi anni di formazione che poi ti hanno portato a sviluppare quelli che sono i tuoi talenti quello che poi hai fatto diventare il tuo lavoro c'è stato un momento in cui hai pensato non ce la faccio cioè nel senso non che non vedevi non vedevi non vedevi non vedevi la luce in fondo al tunnel diciamo così da un certo punto di vista non la vedo ancora ah io credo di essere e lo dico sempre sono un uomo felice ma non un uomo sereno perché il mio lavoro è un lavoro è proprio un lavoro sì sì non è un business vi faccio capire cosa intendo se io mi fermo perché domani faccio un incidente mi faccio male le gambe banalmente io smetto anche di lavorare e quindi smetto di guadagnare il business invece è qualcosa che tu metti in piedi e continua a girare a prescindere dalla tua presenza sono un grande fan dei metallica se i metallica smettono domani di fare dischi o concerti vivono di merchandising quello è un business Rudy Bandiera no quindi questo non mi rende sereno ma allora uno dice allora perché lo fai ingrandisciti costruisci un'agenzia cosa che ho provato a fare ma non fa parte di me non sono un imprenditore sono un libero professionista quindi il lato positivo qual è? è questo io alla mattina posso decidere di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che un dipendente potrebbe fare in azienda quindi ho nel tempo e nella gestione di me stesso e del mio tempo il valore contemporaneamente questo però diventa una roba che mi limita e mi toglie serenità perché lavoro a chiamata tra virgolette ok però prima dicevi cioè comunque tu hai dei collaboratori hai comunque una certa struttura attualmente come oltre a te come persona Rudy cosa gravita intorno a te come funziona il tuo lavoro in realtà siamo poche persone io ho una piccola società composta da due soci ok il mio socio si chiama Riccardo Scandellari Scande forse qualcuno di voi che ascolterà ci avrà sbattuto contro sui social nell'ambito marketing soprattutto esatto poi abbiamo due ragazze che lavorano per noi in ambito gestione dei contatti cose di questo tipo dei contenuti e dell'amministrazione ok non siamo in tanti però tutto verte sempre attorno alla mia faccia al mio nome per quello che riguarda me certo cioè nel senso tutte le attività di influence marketing gli eventi la formazione la devo fare io non posso mandare qualcuno e di conseguenza sono sempre un po' un po' teso no da un lato penso ah che bello la pensione quando sei in pensione non pensi più a niente hai il tuo introito e dall'altra parte penso no però questo è tremendamente stimolante io c'è una Gramellini pone sempre una una domanda ai suoi ospiti nella trasmissione che fa di sera che dice qual è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta io tutti i giorni faccio cose per la prima volta oggettivamente tutti i giorni e questo è uno stimolo incredibile come fa il cruciverba tiene aperto il cervello ma non può dare serenità perché è un'iperstimolazione che non dà serenità ma una serenità che non arriva perché non hai magari dei punti fissi o anche perché sei sempre a ricerca di qualcosa in più che vorresti che magari non hai ancora e che vorresti avere mi sembra una salute allo psicologo in entrambe le cose un po' perché non ci sono punti fissi io non ho una rete commerciale la mia rete commerciale è il mio vecino di utenza tra i vari social raggiungo circa 250.000 persone che mi rendo conto che non sono numeri da Chiara Ferragni ma se hai 70.000 follower su LinkedIn che è un business uno social business hanno un maggior valore rispetto a Instagram per capirci quindi quella è la mia rete commerciale questi mi vedono mi ascoltano e pensano devo fare un evento aspetta che lo chiamo devo fare formazione aspetta che lo chiamo devo fare attività di influence marketing aspetta che lo chiamo ma se smetto di andare di moda cosa succede cioè non funziona più dall'altra parte c'è anche il continuo inseguire qualcosa che potrebbe essere lo step successivo lo sfondare sì credo però scusa ti interrompo perché mi hai dato mi hai dato uno spunto interessante credo però che questa condizione sia specifica del lavoro dell'influencer perché scusa no no certo certo nel senso del divulgatore certo perché in questo caso il prodotto sei tu bravissimo se ci pensi è una questo ragionamento che tu giustamente fai si può applicare a una qualsiasi realtà una qualsiasi azienda nel momento in cui un'azienda vende un prodotto e quel prodotto non va più di moda quell'azienda chiude ovviamente in questo caso è particolarmente subdolo questo meccanismo questo pensiero perché il prodotto sei tu assolutamente quindi sicuramente ti dà un pensiero in più perché probabilmente tu lo vivi più in prima persona ovviamente ma credo sia una realtà comune a chi gioca sul mercato è totalmente trasversale ma un'azienda non ha un monoprodotto è difficilissimo perché non sei Apple per capirci però se sei Apple il problema non ce l'hai certo e quindi diciamo che puoi innovare e il tema riguarda anche chi fa il mio lavoro mettiamo influencer divulgatore chiamamolo come volete faccio un esempio banale io ho cominciato tanti anni fa non posso continuare a raccontare le cose che raccontavo tanti anni fa perché non sono più credibile ho i capelli bianchi quindi è una continua evoluzione anche di te stesso nei confronti del messaggio e della tipologia di messaggi e di media che devi utilizzare e questo non è facile due anni fa ho fatto un percorso che è durato sei mesi per riposizionamento di brand o di bandiera con una agenzia che ha lavorando sugli archetipi sul mio pubblico e sui miei clienti individuato il mio posizionamento che cosa vuole la gente da te che cosa rappresenti nel contesto socio-economico in cui vivi ma se tu non sei lo specchio di quello che rappresenti devi evolvere devi cambiare in qualche modo o di quello che la gente si aspetta e quindi è una continua lotta con se stessi anche se sembra stupido se sei in banca ti puoi permettere di essere più sereno che non vuol dire felice non ho mai pensato felice ma sereno perché la condizione attorno a te ti protegge la condizione attorno uno che fa il mio lavoro non mi protegge per niente anzi è una sovraesposizione che non protegge per niente poi cambiano le mode cambiano i metodi di comunicazione cambiano i social anche ti faccio un esempio su questo tiktok se avessimo parlato di tiktok tre anni fa quattro anni fa probabilmente la gente avrebbe detto cosa? oggi tiktok è lo standard de facto dei social che non è un social poi è una piattaforma un intrattenimento il competitor di tiktok non è facebook è netflix per capirci io sto investendo tantissimo su tiktok e la gente mi dice eh no ma ci sono i ragazzini ma uno chi l'ha detto due l'algoritmo funziona abbastanza bene da targettizzare perfettamente il pubblico quindi ti mostra a un pubblico interessato quello che oggettivamente hai da dire faccio dei numeri più alti su tiktok con 3.000 follower che su instagram con 20.000 ma vuol dire cambiare completamente il modo di ragionare il modo di produrre video il modo di crearli e quindi è un continuo un continuo rincorrere senza avere mai la certezza che la cosa funzioni perché è un tirare i dadi certo linkedin è stata la stessa cosa tu sei top voice su linkedin che lo spieghiamo correggimi se sbaglio lo spieghiamo per chi ci guarda i top voice sono persone che sono particolarmente influenti nell'ambito nell'ambito del social appunto linkedin quindi tu hai un seguito molto grosso su linkedin e prima ti anticipavo io ci bastico un po' su linkedin secondo me non ha non ha un gran futuro perché mi dispiace dirlo così ma è ovviamente la mia opinione credo che tra le nuove generazioni non abbia quell'appeal che aveva fino a qualche anno fa ti dico perché perché la maggior parte non tutta ma la maggior parte della comunicazione che viene fatta su linkedin è molto finta autoreferenziale e credo che non porti molto lontano cioè sopravvive su linkedin chi fa una comunicazione che non è solamente autoriferita purtroppo però adesso non saprei dirti una percentuale però in proporzione una grande proporzione delle persone che comunicano su linkedin lo fanno per mettersi in mostra solo che finché ti metti in mostra su instagram ha diciamo un certo livello di superficialità e la gente sarà sempre interessata ai cazzi tuoi esatto ai gattini o ai culi o a quello che c'è su instagram su linkedin è un'altra dimensione e quindi credo che soprattutto ripeto tra le nuove generazioni non abbia non abbia quel tiro che aveva fino a qualche anno fa tu cosa ne pensi al riguardo? allora linkedin è un luogo controverso intanto bisogna dire questo su linkedin ci sono le stesse identiche persone che ci sono sugli altri social sono solo vestite meglio ma sono le stesse identiche quindi non è un posto elitario migliore o peggiore è lo stesso su facebook mostrano quello che mostriamo quello che mangiamo a pranzo su linkedin quanto siamo bravi e su instagram mostriamo la nostra vita molto migliore rispetto a quanto non lo sia in realtà però secondo me c'è un tema importante il mondo di social sta cambiando profondamente secondo me in crisi sono i social generalisti social cosa significa? che la tua portata di visibilità quello che vedono gli altri dipende dalla tua rete sociale quindi i follower sono un valore ho tot follower tot persone mi vedono poi la portata è molto bassa su questo numero di follower ma non stiamo entrando in tecnicismi questo è un social network questo questo prodotto secondo me è in crisi quello che sta uscendo in questo momento sono i social di scopo ok quindi linkedin lo è qual è lo scopo? il business come farcelo dipende dalle persone ovviamente ma è il business social di scopo un altro per esempio è grinder tinder ok clubhouse anche clubhouse se ci pensiamo whatsapp è un social chiuso io lo definisco social chiuso come anche clubhouse non clubhouse quello telegram no no quello che si paga per per vedere i tizi le tizie dai no ragazzi only fans only fans porca miseria in questo momento qua avevo una rimozione scusate non è bacchettonismo ma avevo una l'avevo rimosso completamente social chiusi io li considero i social in cui c'è un amministratore che definisce chi può entrare e fare cosa ok poi tu su telegram o su whatsapp o su only fans puoi comunicare con centinaia di migliaia di persone o con tua zia quindi abbiamo social di scopo tinder grinder linkedin social chiusi whatsapp telegram eccetera social trasversali facebook instagram piattaforma intrattenimento twitch tiktok ecco secondo me linkedin non è ancora attraente per le nuove generazioni perché le nuove generazioni non lavorano ancora nel momento in cui cominceranno a lavorare o a capire che il personal branding è per loro un valore per poter vendere il proprio know-how sul mercato quello è il posto giusto dal mio punto di vista e infatti è il social che sta da un certo punto di vista numericamente come quantità di ore passate sopra crescendo più di tutti ok insieme a tiktok quindi non lo vedo in crisi al momento le nuove generazioni abbandoneranno forse qualcosa per buttarsi su qualcos'altro o forse no Mark Zuckerberg dice che ogni 15 anni c'è una rivoluzione in questo momento stiamo rivivendo la rivoluzione questa cioè piattaforme intrattenimento che prendono il posto dei social concludo questa cosa ragazzi perché è una piattaforma intrattenimento diverso da un social perché i follower non contano se tu hai zero follower su tiktok puoi fare i numeri perché è l'algoritmo che decide il tuo target non i tuoi follower non i follower ok e quindi questo cambia il paradigma completamente instagram negli ultimi anni in realtà si è un po' si è mosso verso questa direzione un po' un ibrido però ancora però fa pietà algoritmicamente è uno schifo totale totale non sono stati capaci di mettere insieme e non sono dei pivelli questi qua di palo alto ciò voglio dire hanno un'azienda da 65 miliardi di fatturato ma non sono ancora riusciti a mettere insieme una piattaforma che funziona come tiktok tiktok è inarrivabile anche un po' youtube ha cercato di ecco quello è un altro ecco bravissimo scusami quello è un altro tema quello è il search misto ovvero youtube google maps sono luoghi in cui tu vai a cercare qualcosa però dopo trovi il tuo punto di riferimento lo segui e fai parte di una community i local guide le guide locali di google maps oppure i canali stessi su youtube ma è tutto basato sulla search tutto parte dalla ricerca una volta che tu hai trovato qualcosa allora contenuti correlati community e diventi parte di una community anche questa qui è una roba che sta crescendo tantissimo sono sempre più chiuse le community ma sempre più funzionali algoritmicamente e visto che tu sei sul campo da un po' di anni in questo in questo settore abbiamo parlato delle quelle che potrebbero essere le prospettive future di sviluppo dei social e invece facendo guardandosi indietro quali sono le cose che sono cambiate di più da quando ho iniziato un po' cambiato tutto oggettivamente certo alcune cose sono nate morte clubhouse che ho citato prima al posto di holy fans che si vede che il mio cervello lo associa a non so per quale ragione non so se lo ricordate clubhouse era quella andava durante la pandemia esatto che sembrava la rivoluzione mi ricordo che un editore mi chiese fai un libro su clubhouse un libro su clubhouse io l'ho aperto due volte non ho idea di che cosa si possa e per me era una cassata elitaria che sarebbe andata a morire e in quel caso ci ho preso non è che ci prendo sempre nelle previsioni è cambiato tutto è cambiato soprattutto l'approccio stesso ai social è diventato un approccio di massa quando ci si avvicina a una piattaforma chi si avvicina a una piattaforma o una tecnologia o qualcosa di nuovo viene definito early adopter in genere l'early adopter è qualcuno sgamato sveglio che ha voglia di sperimentare e che in qualche modo vuole essere anche il primo a fare le robe e quindi i social appena nati anche facebook all'inizio avevano quasi un'aura non dico elitaria ma quasi intellettuale perché erano in pochi quelli che partecipavano e tutti gli altri esatto e tutti gli altri dicevano cose del tipo io non ho bisogno è vero è un grande classico in realtà non è una questione di bisogno noi non abbiamo bisogno di niente a parte dei vestiti delle scarpe mangiare e bere è quello di cui abbiamo bisogno il resto non è bisogno non è necessità è desiderio e quindi dopo che la gente ha cominciato ad andarci tutti sono arrivati anche quelli che dicevano a me non serve e più aumenta il numero di persone all'interno di una di un contenitore in questo caso un social più diminuisce la qualità del contenitore stesso è fisiologico linkedin sta peggiorando contenutisticamente perché c'è sempre più gente e quindi è questo secondo me che è cambiato oggi noi vediamo i social come una porcheria in realtà sono semplicemente la realtà più accessibile esatto visto sotto una lente di ingrandimento quindi non non sono belli o brutti o cattivi sono quella roba lì vedevo a tal proposito vedevo un grafico non tanto tempo fa che mostrava proprio questa cosa cioè quanto tempo le piattaforme hanno impiegato per raggiungere un certo numero di utenti credo fosse 100 milioni se non sbaglio e faceva vedere metteva in scala diverse piattaforme si partiva con i primissimi social c'era myspace face myspace io non me lo ricordo neanche non credo adesso ci è mai stato tra l'altro non mi siete persi niente era una porcheria mamma mia l'embrione dei social ognuno poteva fare quello che voleva quindi font colori qualunque cosa potevi metterlo come voli tu quindi faceva schifo perché tutti crediamo di essere creativi ma in realtà non lo siamo scusa l'interruzione no no ci mancherebbe e quindi niente dicevo si arrivava fino a chat gpt che ovviamente non è un social però comunque è una piattaforma che viene utilizzata ampiamente sul web e era interessante vedere che i primissimi alcuni addirittura non li ha raggiunti o comunque nel senso ci ha messo un tempo lunghissimo per raggiungerli e si arrivava alla fine con chat gpt che era tipo due giorni tre o quattro giorni ne avevo visto anche qualche giorno questa cosa è veramente veramente incredibile ti chiedo siccome è notizia di questi giorni di Biden no no parliamo anche di Biden se vuoi no il bug informatico l'altro giorno non mi ricordo quando venerdì 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 c'è stato questo evento che in un certo senso ci ha dato sembra che abbia dato un po' la scossa alle persone anche se per me personalmente è stato un po' uno scoprire l'acqua calda cioè che siamo dipendenti dalla tecnologia forse ecco non abbiamo capito quanto veramente quanto siamo dipendenti dalla tecnologia e quindi ti dicevo se domani chiudesse internet Rudy Bandiera cosa sarebbe allora intanto devo devo fare una breve postilla a quello che hai detto sono d'accordissimo sul fatto che siamo dipendenti ma in questo caso a me ha spaventato perché abbiamo scoperto di essere dipendenti non dalla tecnologia ma da un'azienda sì è vero è vero è questa roba qui cioè il mondo è dipendente da un'azienda privata americana e questo è spaventoso è spaventoso ma non perché io sia anti americano se fosse cinese o italiana sarebbe la stessa cosa un'azienda privata governa le nostre vite non è l'unica anche Google eccetera ma il potere di Microsoft è veramente sterminato e questo mi ha mi ha fatto molto 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 riflettere cioè c'è qualcosa che non va io sono un grande appassionato di libri cyberpunk di letteratura cyberpunk ho letto tutto il mondo cyberpunk e più o meno tutto quello che hanno detto non si è avverato gli innesti le tecnologie riguardante il corpo eccetera Elon Musk ci sta andando vicino ecco esatto una roba però una roba di tutti di tutta la letteratura cyberpunk si è avverata ovvero il mondo gestito dalle corporation dicono nella letteratura quindi aziende più potenti degli stati i quali diventano orpelli delle aziende stesse e questa roba qui ci dovrebbe fare ragionare tantissimo perché uno dice vabbè cosa ci posso fare intanto esserne consapevoli e poi continuare a a ragionare e a valutare e a vagliare quello che sta succedendo per tornare al tuo tema se chiudessero internet credo che cosa farebbero di bandiera non sarebbe un problema credo che ci accoltelleremo per le strade perché non andrebbe più niente quindi credo che comprerei dei fucili ok e mi baricherei in casa ok speriamo che questa evenienza che non accada esatto no però scherzi a parte è stato oltre che spaventoso anche interessante vedere come cioè quanto veramente una piccolissima cosa una alla fine quello che è stato un errore in un aggiornamento di un software esterno microsoft esatto abbia mandato in crisi mezzo mondo i trasporti i pagamenti veramente ospedali gli ospedali qualsiasi cosa è anche un discorso diciamo di concorrenze monopoli che anche quelli come dire ci sono sempre stati magari in alcuni settori ma su questo settore è diventato diciamo il monopoli di tutti gli altri settori e quindi ovviamente sfidare microsoft sfidare apple è molto difficile se non impossibile è vero e anche nuove realtà che nascono poi magari vengono comprate dalla grande azienda quindi e infatti la exit che tutti vorremmo fare esatto tutti vorremmo farci comprare esatto racconto sempre questa storia qua a proposito di questo snapchat lo conosciamo tutti anni fa prima che instagram introducesse il morphing cioè tutti i filtri per fare le facce eccetera Zuckerberg andò dai fondatori di di snapchat chiedendo di comprare la baracca quanto costa la baracca loro gli hanno detto cosa c'è noi abbiamo la tecnologia il pubblico la piattaforma noi non te la vendiamo mica ma non siamo matti lui insistito è uscito è tornato a palo alto e con gli ingegneri ha detto sapete cosa c'è riproducete esattamente snapchat e gli ingegneri gli hanno detto ma no noi non ce li abbiamo gli algoritmi per cambiare la faccia i filtri per fare le orecchie tutte queste cazzate che faceva snapchat che problema c'è a me sul campo non mi ricordo se 6 o 7 miliardi hanno comprato masquerade il più importante algoritmo che a quei tempi faceva quelle cose e l'hanno integrato in instagram morale se viene Zuckerberg e vi chiede di comprare la baracca dategliela dategliela perché tanto facciamo un appello dovremo fare una valutazione di quanto viene a cercare un podcast si si può possiamo parlare si può ragionare si ne possiamo parlare cambio totalmente tema subito appena sei entrato ho notato i tuoi tatuaggi che sono strafighi grazie hanno un significato oppure la semplice estetica secondo me hanno un significato ma molti sono frasi di Pascal di Rudy Bandiera che mi sono piaciute mi sono tatuato di Hemingway qua c'ho anche Hemingway altri sono citazioni ai miei libri per esempio titoli di miei libri ma soprattutto videogiochi lo so che mi sembra una roba da matti tu sei appassionatissimo si ho citazioni a videogiochi Gears of War Destiny Quake 3 Arena Detroit Become Human perché nella mia vita sono stato una cosa importante e continuo ad essere una cosa importante un passatempo importante infatti io mi definisco sia gamer che lettore che non è una dicotomia ma sono due cose molto vicine sono due strumenti che ti permettono di vivere vite che altrimenti non potresti vivere è vero sia il libro perché comunque Umberto Eco diceva se tu leggi sei stato insieme a Renzo e Lucia sei stato nell'inferno con Dante altrimenti hai solo la tua vita e i videogiochi è la stessa identica cosa non solo entri in mondi alternativi ma sei qualcosa di diverso oltre al discorso dei riflessi tutto il resto problem solving è proprio una struttura creativa straordinaria secondo me poi secondo me c'è anche un po' la demonizzazione dello svago cioè sembra che ritornando ai social sembra che uno abbia nelle sue 24 ore debba costantemente spaccarsi il culo farsi invece voglio dire i videogiochi sono anche un'occasione di svago di crescita di di cazzeggio di di rilassamento anche di socialità socialità esatto cioè sono veramente una discorsa io faccio sempre questo esempio qua ho una casa con soppalco sotto abbiamo un bel divanone grande con la tv grande per netflix eccetera sopra una poltrona comodissima con un bel tv grande per giocare quando la domenica o nei giorni in cui piove roba di questo genere quando abbiamo più tempo io vado su e gioco e mia moglie sta giù e guarda netflix all'inizio di questo di questo processo qui lei diceva basta giocare hai già passato due ore a giocare si diventa deficiente ma scusa un attimo perché io divento deficiente se gioco e tu che guardi netflix no fammi capire qual è la dinamica in base alla quale è peggio una cosa rispetto a un'altra secondo me il videogame è una risorsa come la tv come l'acqua come l'aria e come tale va gestita è chiaro che se uno passa 10 ore al giorno tutti i giorni a giocare ai videogiochi ha un problema che però va al di là dei videogiochi cioè quello lì è la punta dell'iceberg è l'evidenza ma ha un problema ecco la stessa identica cosa vale per qualunque altra cosa l'ikikomori che sta in casa e guarda solo la tv ha un problema e quindi i videogiochi secondo me sono usati in maniera intelligente soprattutto questo lo dico ai genitori i videogame hanno un peggy c'è scritto peggy 18 vuol dire che sono invietati ai minori di 18 anni se facciamo giocare un ragazzino di 11 a GTA 5 in cui devi fare il gangster cose da gangster e squartare dei cani per vincere dei premi stiamo sbagliando tutto faremo vedere un film pornografico a nostro figlio di 11 anni no perché lo facciamo giocare a GTA quindi la responsabilità è spesso nostra comunque credo che sia anche una cosa di accettazione sociale e culturale perché è vero che sono demonizzati forse in Italia ancora magari di più rispetto che in America c'è ancora questa cosa un po' vecchia del i videogiochi che sento ancora dire i videogiochi sono per ragazzini e poi uno diventa adulto smette in realtà in America ormai non è già più così secondo me e probabilmente come hai detto tu una forma di intrattenimento magari come Netflix è sdoganatissima perché è la l'evoluzione della televisione di fatto lo streaming e quindi quello è accettato e tutti lo fanno a tutte le età ecco invece il videogioco o non è così accettato o viene relegato solo una fascia di età invece si andrà sempre di più inevitabilmente a capire che invece non è così anche perché esiste tra virgolette da poco cioè la televisione esiste da 80 anni e videogiochi da molto meno ecco però c'è anche una tendenza più nuova che viene dalla cosetta menos fear dai super grinder del successo gli uomini alfa si di si stronzate incredibili di demonizzazione di questo ma non del videogioco in sé ma di qualsiasi cosa che distrae mamma mia che però assurdo cioè io adesso non sono psicologo però non serve non serve essere psicologi per dirlo e per riconoscerlo staccare è non solo è necessario esatto assolutamente è necessario serve no no ma poi ognuno trova il proprio il proprio modo di farlo io leggo e gioco o faccio dei pranzissimi però questo è un altro discorso ognuno deve trovare il proprio modo c'è chi va è chiaro io lo so anch'io che è più sano andare a correre due ore anziché mettersi a giocare a videogame due ore ma se tutti corressimo sulla mura non ci sarebbe posto capite cosa intendo cioè non possiamo fare la stessa cosa io non so che cosa intendete voi per uomini alfa il grinder del successo mi fa molto ridere questi termini ma il fatto che si debba solo ed esclusivamente sbattersi e lavorare è tipo i guru intendiamo è follia intendiamo tipo i guru sì 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 no certo mi ha fatto molto ridere gli uomini alfa sì perché cosa che mi rigiocherò è totale follia cioè è dimostrato il fatto che il cervello non possa stare costantemente sotto una tensione e una pressione poi è ovvio che bisogna farsi il culo nella vita ma questo senza alcun dubbio senza alcun dubbio ma questo non vuol dire che non ci debbano essere dei momenti di casteggio e ognuno sceglie come farli certo bisogna secondo me un po' ritrovare la famosa via di mezzo che è una roba molto vecchia quasi da da nonna cioè non so come dire perché sui social vediamo spesso i due estremi cioè l'estremo del non faccio niente mi sfondo di netflix videogiochi così è l'estremo di quelli che dicono no cambiate totalmente la vostra vita e lavorate o studiate 25 ore su 24 e non ha senso secondo me però tu hai aperto in questo momento qua il vaso di pandora dei social che è la dicotomia o meglio la polarizzazione cioè sui social funziona solo qualcosa che polarizza quindi se tu scrivi ah ma è bene stare in equilibrio sì ho lavorato ma ho anche fatto la gente dici ma chi se ne frega tu devi trovare dei fan o dei tifosi meglio e degli odiatori nei confronti di questa roba qua allora fai i numeri e questo porta tutti noi a creare dei contenuti che siano sempre più polarizzanti e sempre più fuori dal giusto mezzo di cui parlava Aristotele esatto e quindi questo è il vero vaso di pandora dei social secondo me ma guardiamo la politica esatto è questa roba qui esatto cioè la polarizzazione cioè i politici oggi non sono lì per per governare sono lì per vincere non sono lì e non sono nemmeno lì per fare costruire programmi sono lì per avere consenso per comunicare ed è anche per questo che i partiti sono sempre meno influenti e sono invece le persone al contrario sempre più importanti le persone basti vedere il caso di Biden si è visto in America un partito democratico incapace di dettare una linea che andasse oltre la proposizione della persona forte passami il termine che poi però ha portato a quello che abbiamo visto succedere proprio ieri infatti volevo chiederti un commento al riguardo cioè che si è preso atto del fatto che il candidato attuale presidente candidato ex candidato alla corsa per la casa bianca sia inadatto al suo ruolo e quindi è stato Joe Biden è stato si è ritirato dalla corsa della casa bianca e quindi lasciando sostanzialmente un vuoto e un partito democratico abbastanza nel caos ecco quindi ti chiedo visto che abbiamo introdotto la cosa un commento su questo è bellissimo la campagna elettorale è più bella di sempre se non fosse che tutto questo delle ricadute su ogni persona di questo pianeta sembrerebbe un gioco veramente sembrerebbe un gioco di ruolo è straordinaria perché abbiamo da una parte una persona anziana con degli oggettivi problemi di inadeguatezza dall'altra parte a mio avviso una persona che non può più essere definita sopra le righe ma che io definirei se lo incontrassi nel bar un matto cioè abbiamo un vecchio e un matto per semplificare eppure vecchio l'altro sì esatto però diciamo che non è la sua caratteristica un vecchio e un vecchio matto abbiamo questa situazione qui leggevo i giornali questa mattina adesso non so quando andrete andrete su con questo podcast ma questa mattina Trump ha detto due cose che mi hanno totalmente costernato uno Biden non ha il covid non ha mai avuto il covid voi credete a queste cose qua ma come fai a dire delle cose così hai una responsabilità e subito dopo ha detto ecco adesso dovremmo chiedere il rimborso per le spese che abbiamo sostenuto in campagna elettorale perché tutto era puntato verso Biden se loro cambiano le carte in tavola noi vogliamo il rimborso ma sei matto? cioè è una roba veramente che non sta né in cielo né in terra eppure quello è quello che vincerà e questo perché la dicotomia la polarizzazione però la polarizzazione porta solo male porta un uomo a vincere o una realtà a vincere ma non porta positività per la collettività si è persa il punto di vista si è persa di vista la collettività secondo me certo tu pensi vincerà? ma penso che non sia già finita ecco come viene dipinta un po' la situazione chissà pensavi anche che non si ritirasse Biden però? sì pensavo diciamo che ero nella minoranza della minoranza cioè di quelli che dicevano che doveva rimanere esatto però alla fine vabbè mia opinione politica penso che adesso siamo in un mondo nuovo diciamo così c'è una donna che sarà quasi sicuramente 99% poi ovviamente io lo dico adesso esatto fra un mese non si sa ancora non si sa cambia tutto cambia le carte in tavola quella cosa che hai detto tu del vecchio contro il vecchio matto non c'è più è vero rimane il matto rimane il matto però magari il matto vince lo stesso questo non lo posso sapere però secondo me carte nuove cioè abbiamo ridistribuito le carte non si sa è vero questa è la mia opinione se ci pensi è proprio il fatto che si sia perso perso di vista l'obiettivo comune cioè la collettività al centro è la causa che ha portato a riproporre Biden perché un partito serio forte con una come dire con una io non mi nemmeno il nome leadership con una leadership grazie con una leadership forte sarebbe avrebbe dovuto proporre un'alternativa più diciamo più seria e anche lungimirante in un certo senso a quella che poi invece è stata con Biden perché appunto si è visto la politica è una bestia infame in questo caso di conseguenza in tutti i casi c'è c'è una famosa famosissima frase di Alcide De Gaspari che diceva il politico guarda le prossime elezioni lo statista le prossime generazioni chi è oggi che guarda le prossime generazioni la politica ormai alimenta se stessa cioè la politica è lì per ridivorare quello che ha divorato fino ad oggi per rialimentarsi di politica stessa cioè non c'è più un disegno a lungo termine l'alternanza che è una cosa fighissima ed è il senso della democrazia paradossalmente impedisce il progetto a lungo termine e qual è l'alternativa è la dittatura che è peggio e quindi purtroppo siamo oppure una classe politica illuminata esatto magari un'alternanza dove alcuni paletti rimangono stabili che forse sembra un'utopia detta così adesso nel 2024 sembra un'utopia incredibile però credo che in alcuni paesi nel novecento questa cosa ci sia stata c'erano alcune cose che magari cambiavano i governi ma anche in Italia cambiavano i governi c'era sempre un partito a cardine diciamo così e alcune cose rimanevano stabili anche se cambiavano i governi ogni sei mesi ma erano i stessi partiti però c'era un partito fisso erano l'ADC i repubblicani anche la politica americana mi viene da dire che durante il novecento i repubblicani i democratici litigavano su tutto ma su alcune cose c'era un'unità c'era un'unità oggi soprattutto politica estera siamo in un momento di grande subbuglio ragazzi e e vince una cosa che mi mi colpisce vince la comunicazione vince viene detto il populismo che dice alle persone quello che le persone no si vogliono sentire dire che è una cosa strana perché io magari da un politico vorrei che mi dicesse una cosa nuova non una roba che so già di volere so già di capire da solo vorrei che mi presentasse il futuro che in futuro ci saranno cose nuove cose che io non ho ancora immaginato certo e invece non tra i bias sì non tra i bias la politica come i social e quindi non si va da nessuna parte eh sì lo so bene allora Rudy ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto oggi abbiamo parlato abbiamo veramente spaziato da cyberbank a Biden a Biden esatto è stato molto interessante anche scoprire quella che è quello che è quello che è il tuo lavoro i temi diciamo di cui ti occupi e ringrazio i ragazzi per averci seguito e spero che la puntata vi sia piaciuta grazie ancora Rudy e ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie a voi grazie il il chacare podcast oh ciao 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 ciao